Ritorna puntuale a Pordenone l'8 settembre, la Tombola in piazza, un'occasione per incontrarsi, giocare e sperare di essere baciati dalla fortuna. Ad animare la preestrazione e la pesca dei numeri ci saranno anche il duo comico I Papu, che intratterranno il pubblico assieme alla banda della filarmonica Città di Pordenone. Il monte premi anche quest'anno è di 2.400 euro, 1.200 per la Tombola, 400 per il Tombolino, 500 per la Cinquina e 300 euro per la Quaterna. Il costo delle cartelle è sempre uguale, un euro ciascuna. Capofila dell'organizzazione, come sempre, la società operaia, alla quale si affiancano il Comune, Pordenone Fiere, Banca Friuladria, Credit Agricol e Lorenzon, strumenti musicali di Porcia. Lo spettacolo inizierà alle 17.15, l'inizio dell'estrazione invece è previsto per le ore 18.30. Per consentire lo svolgimento della Tombola, dalle 12 alle 20 sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione, su ambo i lati di Corso Vittorio Emanuele, da Via del Mercato a Via Vendramini. Dalle 15 alle 20, nello stesso tratto, vigerà il divieto di circolazione. Dalle 15 alle 20, nello stesso tratto, vigerà il divieto di circolazione.